Se continui così, perdi il treno. Cucù! Super design! Il linguaggio del design è il linguaggio di mangiare una città proprio. Se puoi tornare la macchina, puoi togliere qualcosa. Posso fare dei moviti di torso? Se devo parlare di me, io mi sento ancora oggi un radicale. Buongiorno! Il design radicale non è mai esistito. Tutto dove sei, devi essere radicale nel spirito, nell'architectura. Sì, usiamo il vero rivoluzionario. Questo Olivetti non è male, scricchiola tutto! Nei Stati Uniti, si mettono il pop art sul luogo. In Italia, si mettono il luogo e vivono con il luogo. Prima di usare questo tema, l'architettura radicale, l'architettura che era usata per la nostra produzione, era anti-design. Il delirio di poter progettare tutto. È stata un'avventura alla quale ho partecipato per caso. Comunque, sono contento di averla vissuta. È stata una bella stagione, una bella primavera. Vita, educazione, cerimonia, amore e morte. Life, educazione, cerimonia, amore e morte. Superdesign è qualcosa da andare e scoprire. Grazie a tutti.